Il fotografo amatoriale è un soggetto che poi vive in qualche maniera sul web ed è un soggetto che frequenta molte volte i circoli fotoclub oppure si raggruppa in una serie di individui simili a lui. Allora io vedevo e pensavo al bombardamento al quale noi molte volte siamo sottoposti che è un bombardamento fatto di forum, di gruppi fotografici su facebook per esempio, bombardamento fatto di video su youtube e così via. E fondamentalmente dopo un anno e mezzo di video su youtube dove io leggo sostanzialmente tutti i vostri commenti anche se oramai sono diventati veramente tanti ho capito che esiste un fattore comune tra tutti quanti gli amatori o le persone che mi seguono e quelli che io poi in qualche maniera leggo fanno le domande poi sui vari forum. E quindi io in merito a questa cosa ho pensato al mio kit di sopravvivenza fotografica ebbene sì kit di sopravvivenza fotografica ragazzi questo è un contenuto molto importante e io direi per tutti è un contenuto importante perché noi dobbiamo fare in qualche maniera ordine in tutto quanto questo. Ordine per due motivi il primo per riuscire a filtrare i contenuti che arrivano il secondo poi per avere per attivare una nostra crescita autonoma ed indipendente in una certa direzione. Io sono tornato più volte sul concetto della crescita provando a dare delle informazioni però il fatto di voler mettere tutto quanto in un kit di sopravvivenza secondo me è molto utile perché altrimenti si è fagocitati dall'informazione e noi non raggiungiamo poi il risultato che vogliamo raggiungere. Quindi ho pensato di fare questo contenuto che è un contenuto io direi neanche filosofico è un contenuto strategico cioè la prima volta che realizzo un contenuto strategico fondamentale detto questo voi sapete che io devo essere fatto felice ad ogni video e per farlo due modi il primo con l'iscrizione il secondo con il like che è fondamentale iscrizione campanella mi fa molto piacere. Questa cosa è fondamentale perché così rompiamo questo algoritmo ci facciamo spingere più in alto tutti quanti come comunità di questo canale per arrivare rapidamente a 10.000 siamo arrivati a 5.000 sono operativi due coupon lo sapete perfettamente coupon composizione per la masterclass sulla composizione fotografica non poteva essere altrimenti e 5.000 è il coupon per scaricare gratuitamente i preset dal mio sito www.francescoverolino.it lì trovate tutto quindi andatevelo a vedere detto questo fattore scatenante leggo su un forum una domanda la domanda è voi come esponete? e quindi poi erano riportate delle cose leggo questa domanda ovviamente è una domanda che ha un senso specifico molto limitato perché è un po' come se io vi dicessi scusatemi ma voi la macchina con quale marcia la guidate? ovviamente prima seconda terza fino alla sesta quindi domanda già di per sé con poco senso ma la cosa bella è che io leggo poi questo posto dove dava una spiegazione che era un insieme di formule matematiche ovviamente se io faccio una domanda che non è pertinente è perché non ne so niente però se poi dopo sono bombardato da algoritmi matematici complicatissimi che stabiliscono relazioni che fanno tutta una serie di nessi tra le lenti e le cose cioè io la persona che ha fatto una domanda l'ho persa alla prima parola ma non è soltanto questo sono ovviamente i video pov che compaiono ogni volta davanti al nostro occhio sono contenuti di bassa qualità nei quali non si riesce a comprendere la persona che sta dall'altro lato che cosa sta provando a comunicarci sono anche quelle false credenze che si alimentano molte volte nei gruppi fotografici mentre invece occorre secondo me tutt'altro quindi è vero esiste il gruppo micro 4 terzi esiste il gruppo perfugie esiste però si vanno a chiudere su una tecnologia e su un tecnicismo come diceva il mio amico una tecnicale che è di natura voglio dire lontana dalla fotografia fotografia intesa come creatività e allora kit di sopravvivenza fotografico e allora kit di sopravvivenza fotografico perché in qualche maniera io credo che la necessità di questo kit sia proprio quello poi di instaurare questo metodo di miglioramento e di crescita allora io il primo aspetto di cui vi voglio parlare è proprio quello della tecnica è proprio quello anzi non della tecnica della cultura della cultura in senso lato allora esiste una cultura tecnologica che una cultura fondamentale sotto un certo punto di vista quindi noi dobbiamo sapere la macchina fotografica come funziona tempi i suoi diaframmi ok prima parte io vi vorrei dire anche una prima parte semplice dobbiamo capire poi un po alla volta si fanno i corsi di base degli elementi primi di composizione che ovviamente non si esauriscono a questo ma sapete come la penso la composizione non è un fatto di regole ma è un fatto di conoscenza delle relazioni tra diversi elementi dopodiché poi di solito ci si ferma con dopo 6 7 8 lezioni con un'uscita fotografica la stampa di qualche cosa e poi dopo si finisce così ok quello è un elemento io direi importante ovviamente non esaustivo che rappresenta un percorso fotografico una base da 0 a 100 immaginate 5 6 7 8 non di più e poi dopo c'è tutto un altro aspetto ora io vi posso assicurare che ho visto persone che in maniera abbastanza spontanea prendono la macchina fotografica non sanno fare niente non conoscono la macchina però fanno fotografie quello quella è una dote fanno fotografia cioè nel senso che non è che fanno click perché fare click è facile ma hanno una certa visione del mondo fatta di un certo tipo allora io mi sono sempre chiesto quale sia dal punto di vista della culturale quale sia l'aspetto forse più importante della fotografia se quello tecnico oppure qualcos'altro allora sicuramente il qualcos'altro noi siamo l'ambiente nel quale viviamo noi siamo il frutto di quell'ambiente siamo il frutto di un'educazione siamo il frutto di una scolarizzazione siamo il frutto ovviamente tutti quanti noi di esperienze allora se io dovessi dire qual è una cosa che per esempio non viene detta dal punto di vista culturale è che bisogna avere quella capacità di tirare fuori questo contenuto ora è ovvio che se dobbiamo stabilire un metodo io devo dire è innegabilmente più avvantaggiato chi ha fatto per esempio studi di livello più alto perché ha una capacità di sintesi ha una capacità di una di analisi del problema fotografia che è probabilmente differente nel senso che gli studi universitari e voglio dire tutti non uno soltanto mettono poi in quella condizione di metodologie di profondità dove si comincia a comprendere poi le dinamiche tra un aspetto e un altro se si approccia la fotografia che di per sé è una disciplina complessa nel modo in un modo che è approfondito una certa tipologia di studi e io ripeto metto tutti anche chi è laureato in medicina o chi è laureato in ingegneria o in qualche altra cosa come disciplina complessa è ovvio che stabilire poi le relazioni fra i vari aspetti è elemento fondamentale elemento fondamentale io direi importantissimo è ovvio che non tutti per un fatto di ambiente di scuola di società di tantissimi altri aspetti hanno avuto la possibilità di studiare in quella direzione quindi di arrivare a studi che sono più alti e che trasferiscono un metodo ma questo non vuol dire che non ci sia la possibilità poi di acquisire delle informazioni e di acquisire in una maniera dettagliata la fotografia è complessa e quindi ogni aspetto va esaminato in profondità leggevo una frase molto bella di uno scrittore che diceva non c'è niente da fare la persona superficiale fotografa in maniera superficiale la persona sofisticata fotografa in maniera sofisticata quello profondo fotografa in maniera profonda quindi noi mettiamo nelle nostre fotografie qualche cosa di differente e parlando di cultura ed è per questo che io torno su questo aspetto parlando di cultura io non ho mai visto una fotografia premiata perché era bella ho sempre visto una fotografia premiata o valorizzata o accettata e quell'autore accettato quindi di conseguenza dopo le fotografie o il portfoglio fondamentalmente perché aveva il fotografo quindi l'autore una visione del mondo ed è questo l'aspetto fondamentale quindi è vero non tutti possono avere avuto la fortuna di studiare però è anche vero che tutti hanno la possibilità di avere una propria visione del mondo e quindi tutti hanno la possibilità di andarsi a documentare ulteriormente su determinati aspetti allora in merito a questo io vi voglio dire che ho riflettuto molto anche su quest'altra questione su quali sono poi gli elementi e le fonti che comportano una crescita sana rispetto a determinati fatti io non credo che esista un corso per diventare professionista della fotografia credo che esista un percorso che ognuno fa che per il 30 40 per cento guarda fuori e per la parte residua guarda dentro è ovvio che per esempio io vi dico nel mio caso mi hanno aiutato molto viaggi fotografici fatti con persone più brave mi hanno influenzato molto dal punto di vista della comprensione della metodologia persone brave e competenti ma che soprattutto erano disponibili a trasferire informazioni quindi quello che ci mettiamo intorno dal punto di vista delle persone è quello che in qualche maniera ci permette poi di crescere e di migliorare io devo dire apprezzo moltissimo il fotoclub che mi chiamano ma non perché mi chiamano perché fanno una ricerca di persone che in qualche maniera sono disponibili a portare contenuti in un contesto che magari anche molto lontano andrò a udine 3435 marzo è ovvio che io proverò a dare delle informazioni cioè proverò a portare un mio contributo a quel gruppo di persone e allora magari le persone che verranno aspetteranno da me dal mio intervento qualche cosa che li possa far crescere che li mette in una condizione differente e allora tutti hanno una possibilità in qualche maniera attraverso diversi strumenti di acquisire informazioni con fondamentalmente le relazioni perché anche sulla questione dei libri che sono molto importanti io vi voglio dire il primo che ha scritto un libro non ha letto nient'altro ha rappresentato la sua idea di quello che in qualche maniera voleva voleva si era fatta l'idea poi di un determinato argomento quindi questo vuol dire che se io devo dimostrare con una tesi di laurea evidentemente sarà necessario dire qual è la bibliografia che mi ha portato a un determinato punto ma se io devo parlare devo scrivere un libro oppure devo studiare qualche cosa io devo prendere sempre quel libro e quel testo non come il verbo ma come il frutto dell'esperienza di quella persona che non è detto che sia uguale all'esperienza che probabilmente vivo io in questo momento quindi farei molta attenzione anche quando ho scritto vita da street photographer io ho precisato in quale contesto di quale contesto parlavo e questo proprio per riuscire a trasferire che era una porzione infatti io dico non è esaustivo è una tappa di un percorso e mi fa piacere che tu la vivi insieme a me quella di vita da street photographer che è il mio libro e ne sto scrivendo un altro quindi speriamo che a breve riusciamo a concluderlo quindi ognuno le fonti che noi acquisiamo sono fondamentali gli scambi con gli altri che siano scritti che siano nell'ambito di un fondo di un circolo fotografico che sia nell'ambito di un amico col quale condividiamo io ho trovato amici due tre quattro che hanno organizzato in molti casi per esempio gli eventi dove sono andato firenze in particolar modo che tra di loro si sforzano di fare un percorso comune e questo elemento è fondamentale la cultura io se dovessi dire metterei sempre un paio di attività ogni anno che faccia un riferimento una cultura fotografica non intesa soltanto come storia della fotografia ma intesa proprio come approccio alla fotografia un paio di eventi l'anno sono quelli che probabilmente aprono la mente sono quelli che mi mettono nella condizione di poter ragionare in una maniera più ampia del resto ragazzi viaggiare così come parlare con altri è un momento di arricchimento quindi diventano quelli dei momenti in cui si deve fare io vi dico io organizzo workshop voi lo sapete ma ci sono anche altri che organizzano workshop ed è importante la pluralità io questo l'ho preciso sempre cioè il fatto che io dica una cosa e qualcun altro ne dica un'altra e qualcun altro ancora ne dico un altro poi sta a chi li ascolta tutte una sintesi di quel problema ma andiamo avanti perché io so che questo sarà un contenuto lungo però inevitabile perché stiamo parlando di una cosa che comunque importante quindi prima cosa cultura di partenza seconda cosa continuare questo arricchimento continuare con le relazioni fatto secondo me fondamentale avere una sintesi rispetto ai libri e documenti che noi leggiamo questa cosa tenderà ad aumentare nel tempo la nostra cultura fotografica è ovvio che però partire da una propria cultura vuol dire che noi in qualche maniera dalle proprie esperienze vuol dire che noi in qualche maniera già abbiamo una base di partenza e quella base di partenza ce la dobbiamo girare a favore ora però cominciamo a vedere oltre questo aspetto cioè cominciamo a vedere oltre un aspetto culturale noi materialmente cosa possiamo fare per migliorare allora io parlo molto spesso che nella fotografia ci vuole tempo lo dico sempre e non il tempo dei tempi sui diaframma ci vuole tempo per migliorare e quel tempo è legato nella maggior parte dei casi ad una fase di sperimentazione la sperimentazione fondamentale noi la dimentichiamo noi pensiamo che nel momento in cui abbiamo una macchina fotografica in mano possiamo andare a fotografare nella realtà dopo che abbiamo incrementato che continuiamo ad incrementare la nostro il nostro blocco un blocco dal punto di vista della scatola nella quale mettiamo le informazioni che fanno parte della nostra competenza della nostra cultura dopo c'è un problema reale di contestualizzazione e la contestualizzazione noi l'abbiamo e comprendiamo i nostri limiti quando andiamo a sperimentare con la macchina fotografica fondamentale cioè come noi abbiamo delle sessioni di uscite fotografiche dobbiamo mettere sempre insieme delle sessioni di sperimentazione che vanno fatte autonomamente è sbagliatissimo prendere la macchina fotografica per andare a fotografare dopo che la si è comprata dopo che la si è comprata al supermercato sbagliatissimo o su amazon sbagliatissimo noi dobbiamo mettere dobbiamo conoscere quella macchina fotografica e quella macchina fotografica rappresenterà il nostro strumento non è il fine altrimenti se noi facciamo già clic da subito abbiamo esaurito lo scopo di quella macchina fotografica noi dobbiamo andare alla fotografia per arrivare alla fotografia occorre sperimentare tutto composizione gestione delle luci setup della macchina aspetto fondamentale e tutti quanti quegli aspetti che in qualche maniera ci mettono nella condizione ora importante i workshop importante direi importante gli incontri tutto quanto il resto ma dopo su quello che ci è detto andiamo a sperimentare se effettivamente quelle cose sono così o meno questo aspetto quello della sperimentazione è sacrificato completamente e noi primo giorno scattiamo la fotografia poi andiamo a casa mettiamo magari qualche cosa in po' pazzata e subito dopo ci troviamo con la fotografia su amazon e magari il nostro profilo da che si chiamava francesco veronino si chiama francesco veronino ph sbagliato sperimentare è un fatto tecnico poi occorre pensare che è un fatto completamente dinamico e fa parte del nostro modo di essere fotografi io lo dico sempre quando prendiamo la macchina fotografica in mano e superiamo un determinato livello e cominciamo ad avere una nostra idea di identità o quantomeno sentiamo l'esigenza di avere una nostra identità in quel momento diventiamo fotografi in quel momento noi dobbiamo pensare da fotografi e quindi dobbiamo avere questa capacità poi di raccontare il mondo in una maniera che è distinta e poi l'ultimo dei miei consigli cioè io cosa metto in questo kit e realizzerò un contenuto specifico su questo argomento metto in questo kit la relazione con il pubblico allora il problema e poi ne parlerò in un altro video che voglio realizzare nei prossimi giorni non è piacere ad un pubblico infatti io un po di tempo fa avevo realizzato un contenuto quanto è importante piacere al nostro pubblico ok ma nella realtà non è piacere al nostro pubblico è essere compressi dal nostro pubblico cioè noi abbiamo un pensiero dobbiamo fare che colpe in modo che col pensiero arrivi dall'altro lato altrimenti non ha senso il fatto di piacere è un fatto che poi lo giudicherà il pubblico se quello che noi produciamo ci piacerà no ma il pubblico comunque per comprenderlo per dire ok mi piace prima di tutto deve comprendere quello che noi andiamo a fare quindi il rapporto tra fondamentale rapporto tra un fotografo e il suo pubblico vi ve la butto lì soltanto è un fatto legato alla comprensione non è un fatto legato a far piacere le nostre fotografie e questo è un punto fondamentale ultimo aspetto di questo kit nel quale poi metto sono le tanto amate macchine fotografiche corredi e tutto quanto il resto allora mi fa comprendere no quanto voi dovete sapere che io so perfettamente che i video sulle macchine fotografiche piacciono cioè io se vi faccio delle statistiche vedete vabbè caspito c'è una correlazione fortissima fra la macchina fotografica e il numero di visitatori di quella cosa certo perché sono i punti più ricercati cioè è ovvio che laica q2 è più ricercato che di kit di sopravvivenza fotografica è una cosa scontata e quindi entrano più persone io lo so ma è proprio per questo che io non voglio andare in quella direzione perché io parlo di street photography nella street photography il 10 15 per cento del valore della della conoscenza complessiva è relativa alle macchine il 30 40 per cento è relativo all'approccio che si deve avere un altro 20 25 per cento è relativo alle filosofie di base poi ci possiamo mettere in tutto quanto il residuo la tecnica ci possiamo mettere tutto quello che volete voi ma è un elemento quello della macchina fotografica del corredo che nella street photography pesa veramente poco al punto tale che voi potreste andare a fotografare fare grandi fotografie anche con una macchina piccola microscopica da 10 megapixel ne ho visto una fichissima della nikon fantastica poi vi dirò il nome allora tutta questa passione per le macchine fotografiche tecnologica non mi metterà mai nella condizione di poter migliorare fino a quando voi non comprenderete che l'attrezzatura nella street photography di altri generi differente pesa il 10 15 per cento che c'è questo e allora io ne parlo per il 10 15 per cento dei miei video e dopo poca importanza ad un aspetto nella realtà lo faccio apposta per diminuire poi l'attenzione su quella su questa in su quest'ambito che è tecnologico seppur so che piace molto però tuttavia l'attrezzatura e quindi quello che noi andiamo a mettere comunque ha la sua importanza ma ha la sua importanza perché ci permette di realizzare delle cose ma un fotografo prima ancora di capire la differenza tra un una lente base una lente pro passano anni di spesa di sperimentazione ma se parliamo di kit di tool anche la qualità della post produzione ovviamente deve essere agganciata e correlata a quell'aspetto allora io in questo kit generale vi dico sicuramente andateci a mettere cultura di base sicuramente metteteci incontri e relazioni qualificate sicuramente metteteci sintesi di libri sicuramente metteteci tutto quello di cui noi abbiamo parlato fino a questo punto e vedrete che voi riuscirete in qualche maniera a sopravvivere ai pov oppure a chi vi risponde con algoritmi complicatissimi che non rappresentano questo quando io parlo di tutto quello che è la creatività di tutto quel di tutti gli elementi che noi dobbiamo mettere all'interno della nostra fotografia che sapete che cos'è è uno studio è un approfondimento è una narrazione è un'idea è un pensiero vedete come tutti quanti questi concetti sono lontani dall'hardware dalla tecnica di base perché scontato un fotografo la deve avere la tecnica di base altrimenti non può fare niente o quasi come sono lontani da tutte le questioni che sono anche numeriche la creatività è un elemento da studiare in una maniera profondissima la nostra creatività anche quando non l'abbiamo è un qualche cosa che può migliorare nel tempo possiamo guardare il mondo in una maniera differente e anche se non è creativo è il nostro punto di vista del mondo deve essere per questo io direi originale allora io mi auguro che questo contenuto che probabilmente è diventato lunghissimo cosa che non volevo sono 24 minuti di contenuto sia per voi un elemento di crescita soprattutto sulla metodologia affidate capia dovete comprendere che il vostro tempo è limitato aggiornato una settimana un mese avete poco tempo e fare le azioni mirate per poter crescere se volete crescere e volete migliorare in fotografia vuol dire andare a vedere elementi che probabilmente non sono sotto gli occhi di tutti e molte volte le fonti alle quali noi andiamo ad attingere sono più interessate a clickbait oppure interessate a fare volumi anziché fare una cultura questo è sempre dovete cercare invece di ragionare in maniera autonoma rispetto a un vostro percorso pesando bene quelli che sono gli elementi sui quali voi in qualche maniera volete andare ad agire e lavorare è ovvio che noi dobbiamo fare sempre il conto con budget che sono limitati limitati ma non voglio dire in tutti i casi quelli economici ma soprattutto quelli di tempo molte volte non abbiamo tempo però abbiamo una passione che vogliamo sviluppare la fotografia per me e lo dico sempre è stato un grandissimo aiuto in alcuni momenti della mia vita io proprio studiando mi sono immerso in un mondo che era differente rispetto quello a quale appartenevo e questa cosa è stata l'unica vera valvola di sfogo dai tutti gli stress tutte le ansi tutto quanto il resto è questa cosa è fondamentale una fase iniziale per avere la determinazione poi la vita è strana cioè non voi non potete sapere fino in fondo come si evolverà e probabilmente come diceva uno io sono per l'idea dell'idea del fotografo vagabondo quindi quest'idea mi piaceva moltissimo io sul mio canale mi sforzo sempre di darvi delle indicazioni che vi riportino poi alla realtà e che vi facciano pensare lo so sono contenuti molte volte anche complessi sono contenuti pesanti dove qualcuno potrebbe pure dire se in quasi quasi vi vado a vedere la prova della della panasonic s5 mark ii ok e poi magari se ne tutto quanto le stesse cose fate anche nella vostra fotografia un discorso elittario cioè fate la vostra fotografia la vostra fotografia dove si siete all'interno di quello solamente voi perché voi siete gli artifici di questa cosa nessuno potrà mai trasferirvi il cento per cento il percorso non è un qualche cosa che prendo da me e lo trasferisco a voi il percorso è qualche cosa che voi individuate se la volete vivere in una maniera che è orientata alla crescita al miglioramento ovviamente questo poi sta a voi ragazzi io credo che questo contenuto sia importante perché mai come in questa volta io ho parlato a degli amici a degli amici fotografi che in qualche maniera sono in balia di questa di queste informazioni che sono sul web e che devo dire nella maggior parte dei casi non c'entra niente con la fotografia quindi che dirvi un saluto a voi e alle vostre famiglie ragazzi sono in partenza per londra sono come al solito l'uomo più felice nel mondo perché la fotografia poi mi dà questo no questo senso di libertà è questo grande impegno di andare a realizzare scatti importanti quindi sono felice di tutto quanto questo un bacio a prestissimo grazie a tutti